Allora facciamo un discorso serio, c'è questo gruppo, è il gruppo di questo settore, allora signori chi non si iscrive al gruppo Ciambellini non avrà più la ciambellina, ma gruppo Ciambellini è il settore 47p, dobbiamo lucrare qua, dobbiamo fare le marchette, al decimo è scritto biglietto gratis per derby, fai vedere al signore, fai vedere, allora ecco ti devi iscrivervi su Facebook a questo gruppo, a S Roma Gruppo Ciambellini, lo faremo, lo faremo, ecco dai mi raccomando sennò niente ciambellina, questo è il gruppo, iscrivi, iscrivi, oh questo è il gruppo, basta il telefono, ecco, fine, fine del telefono, fine del telefono, fine del telefono, oh c'ho una vita lì sopra, a posto, è rientrato il telefono, a posto, sei tranquillo adesso, però non vedo, non vedo, non vedo richieste, come mai, dai i cialtroni e poi non è rimortacci eh, rimortacci Arcangelo sindaco, ne volemo sindaco, con burro alici, burro burro alici, che acetara ho capito, ho capito, ho capito, ha capito, ho capito, ho capito, ha scaglia, ha capito, hai capito? Hai capito il cuomo onesto? Sì! La piazza! Sì! O-Z! 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 Baile! O-Z! O-Z! Baile che inizia ha un altro 2 minuti un gale a Obama! Ci hanno un altro 2 minuti da dono mio! Due sono tanti uno sicuro! L'ho scattuta! Sospedete la partita, sospedete la partita Che schema che stai Ma quant'altro è il fritto? E' un bambino male Ma che è la lobby fritto Però sarei più per 73 Un Bernardino Pure l'alizio Questa sarà la Piatti, più poco Piatti, più poco Io e te, una dolce prigione, dipendeva in secondi, se cercamo con me i miei amanti, io e te. Io e te, una dolce prigione, io e te, una dolce prigione, io e te. Io e te, una dolce prigione, io e te, una dolce prigione, io e te, una dolce prigione, io e te. Io e te, una dolce prigione, io e te, una dolce prigione, io e te. Io e te, una dolce prigione. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.